Un momento. Che cosa dovete dirmi? Nessuno di quegli uomini è colpevole. Ucciderli sarebbe un delitto inutile, signor Maggiore. La rappresaglia è una legge di guerra e gli italiani erano stati avvertiti. Gli ostaggi saranno fucilati. Sono stato io. Come avete detto? Ho detto che il colpevole dell'attentato sono io, signor Maggiore. È un bel gesto, brigadiere, ma non è vero. Secondo le leggi internazionali, voi non potete fucilare ostaggi se trovate il colpevole. 23 cadaveri inutili sono molti per qualunque coscienza, signor Maggiore. Voi non dovete, state zitto, non dovete. Pare Stranden. Sono morti due soldati tedeschi. Devono morire soltanto 20 ostaggi. Voi siete liberi. E potete scegliere altri due uomini da salvare. Voi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.